ciao amici e amiche di notizie di prato siamo al chicco d'uva in piazza mercatale numero 19 in compagnia del titolare massimiliano cosi ciao alessandro ciao ragazzi prega comodate siamo in compagnia di francesco mazzoni il cuoco del chicco d'uva ci presenterà il piatto speciale la catalana canadese catalana canadese del chicco d'uva ravanelli arancia limone ananas finocchio melone pomodoro carote astice canadese gamberi e scampi francesco e tutto lo staff del chicco d'uva farà parte la squadra di a prato si mangia bene grazie a prato si mangia bene ciao 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 ciao